Per me diventare un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri ha significato innanzitutto avere la possibilità di svolgere quella professione che io ritengo più di qualunque altra in grado di mettermi a contatto con le persone che hanno bisogno di aiuto, con le persone deboli, in difficoltà. Io voglio appunto nella mia vita cercare di essere al servizio delle persone più deboli perché la mia felicità dipenderà soprattutto da quanto sarò in grado di soddisfare i bisogni di chi sarà al mio fianco e che avrò intorno a me. Il mio futuro lo vedo sicuramente in giro per l'Italia e per il mondo perché l'Arma dà la possibilità di muoversi molto. Mi piace pensare che potrò essere vicino ai cittadini da una parte ma dall'altra anche dare un mio contributo operativo a quello che può essere la polizia giudiziaria o comunque quelle indagini anche di alto livello.